La tragedia dell'alluvione che ha colpito il 15 settembre scorso alla Regione Marche ha portato alla luce un grosso problema che è presente anche in tante altre zone. La manutenzione dei fossi e la pulizia degli argini sono una serie di interventi che a maggior ragione, dopo quanto accaduto, devono essere il prima possibile portati a termine. Un problema evidente che non può più attendere quanto c'è stato segnalato in questi giorni da un residente di Apsella del Comune di Montelabate, che insieme ad altri cittadini lamenta la presenza ormai da diversi anni di rami, piante e sterpaglie che intasano il fosso Apsella, il fosso che poi sfocia nel fiume Apsa. Preoccupazione evidente visti gli esiti di dieci giorni fa a Senigalli e Cantiano su tutte, soprattutto da parte dei cittadini delle abitazioni a fianco del torrente. Circa tre settimane fa, dunque qualche giorno prima dell'alluvione, a seguito di una forte pioggia, il livello dell'acqua lungo il fosso si è alzato prepotentemente, arrivando fino al muretto della residenza accanto. Un torrente è quello che scorre ad Apsella sotto piazza 25 Aprile, che versa da decine di anni in uno stato di abbandono, degrado e pericolosità. E il Comune di Montelabate, responsabile dell'area coinvolta, dovrà dare il prima possibile una rapida risposta alle richieste dei cittadini. I lavori sono stati fatti 50 anni fa, più o meno, di messa in sicurezza e una certa pulizia con interventi in cemento, non so, mi ricordo anche bene, forse con contributo alla Regione. Dopo poi per la pulizia periodica, all'inizio, i primi 8-10 anni hanno cercato di tenerlo abbastanza bene, poi è passato il tempo sempre meno, adesso le cose poi col tempo si degradano, le piante crescono, gli arbusti, i crolli, non è stato più fatto quasi niente. È un problema che chi di competenza deve assolutamente risolvere il prima possibile. Speriamo che lo faccia il Comune, io so che hanno preparato, hanno fatto il bando, hanno preparato tutto, però ancora non si vede nessuno, aspetteranno che piove, così non lo fanno più. Un ammasso di rami e foglie che oltre al pericolo che potrebbe creare in caso di forti precipitazioni, vede la presenza di animali pericolosi, come vipere o enormi ratti, che a volte si intrufolano dentro le abitazioni vicine, rompendo zanzariere ed estando preoccupazione. Anche a livello estetico, anche di malodore, a volte c'è acqua ferma, putrificata, lì d'estate magari non è che sia un belvedere come paesaggio, ma anche a livello, che ne so, si possono dare anche animali dentro, tutto quello che uno vuole perché è un po' allo stato brado. Specialmente quelle due signore che stanno proprio lì sotto, che già l'hanno avuta e hanno paura, io dico che sarebbe ora di pulirlo.